Austera, impavida, persino un po' strafottente, pronta a scardinare le regole. Si dipinge così, è il caso di dirlo, la donna triestina. La riprova può essere la mostra Eterno Femminino fino al 1 aprile al Museo Sartorio. Curata da Federica Luser, Michela Messina ed Alessandra Tidia, l'esposizione si compone di 28 fra quadri e sculture per lo più busti, realizzati fra il 1900 e il 1940 da 21 artisti, tutti triestini eccetto uno, che restituiscono alla perfezione il senso stesso dell'operazione. Un valore aggiunto per questa mostra è il fatto di essere esposta qui, perché le opere che si vedono sono opere che sono state create per un ambiente familiare, per un salotto, per una stanza anche da letto e quindi ritornano in una dimensione di dimora urbana come il Museo Sartorio, che fino a pochi decenni fa era effettivamente abitata, quindi è la, diciamo, oggi si dice la location, quindi il luogo perfetto per ospitare una mostra del genere. Da Sambo a Sofianopulo, da Rieti a Croatto, la mostra prende il visitatore per mano e lo trascina lungo un itinerario che non prevede scansioni cronologiche, ma consente di comprendere il rispetto e l'attenzione che quegli artisti dimostravano nei confronti delle loro modelle, fossero esse amiche, amanti o appartenenti al jet set di allora. Si viene a ricostruire dunque quel fascino discreto della borghesia, che però a differenza del rimando bugnelliano, protegge se stessa da ogni tipo di incursione livellatrice e consegna una realtà sì cristallizzata, ma non per questo fredda o inarrivabile. La mostra è aperta dal giovedì alla domenica dalle 10 alle 17.